Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho scoperto che qui fanno gli Yoko no Miyagi. Venite un attimo con me. Venite, venite, venite. Guardate cosa sono. Guardate cosa sono. Sono delle specialità che io voglio assaggiarli. E infatti ve l'avevo detto nel video quando vi ho detto che dovevo andare a Tokyo. Se non avete visto questo video, cliccate qui sulla in e vedrete il video. Comunque ragazzi, entriamo perché ho una fame pazzesca. Andiamo! Siamo arrivati a Tokyo! Quale prendiamo? Uno? E due? E due, sì. Ok, ha giudicato. Scusami, scusami. Invece prendiamo questa perché c'è pure il maiale. Questa è col maiale. E questa è con le 1308. Sì, perché sono pure gli spaghetti. Sarebbero gli stessi. Ho capito. Quindi con la Yaki sopra prendiamo questo che sarebbero gli spaghetti. Comunque sia. E questo è senza spaghetti? Sì. CIN 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 Bello che tu stai tuttora per fare, no? Sì, sicuramente. Ma ne vale la pena. CIN 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 Sì, 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 sì. Il tempo sta per finire. Diglielo, chiamalo. Pol mini. Te lo tolgo io. Te lo tolgo io? Olè! Amore, attento. Non ti bruciare. Forza King! Bravo! Mettiamo il coperchetto. E giriamo di nuovo la clessidra. e aspettiamo altri quattro minuti. Ok. Vai! Non ci vuol mettere lo squalcio. No, lo squalcio. Condiscila. King! Fammi vedere. Wow! Quanto se ne mette? Ma che salsa è? E se non ci piace? Questo è il cibo. Che aspettitosa. poi la maionese e ora possiamo tagliare ok io penso che possiamo iniziare a mangiare questi ma forse là si spegne non lo so come si spegne io non ho idea ora lo chiamiamo ok ragazzi noi pranziamo buon pranzo King Marty buon pranzo buon appetito devo dire che io con gli achi sono buonissime ci hanno portato lo scontrino guardate la tovaglietta per asciugarci le mani ci hanno portato lo scontrino questo andremo a vedere come lo vediamo allora totale 2354 allora praticamente una di queste ne abbiamo presa alla fine e costava 1.518 e due bucali di coca cola l'abbiamo presa 836 yen quindi sono 418 yen a bucali quindi 3 euro e 60 centesimi l'uno qui c'è la prova ok adesso andremo a pagare intanto mi bevo questa coca cola che ve l'ho pagata 3 euro e l'ho pagata oggi e alla salute bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto a me sono piaciuto tanto infatti sono ingrassata 2 kg se è piaciuto anche a voi non dimenticate di spolliciare e noi vediamo nel prossimo video ciao